che è tutto in pompa ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi da oggi parte la storia di dragon ball super qui vi ho detto che facevo la serie io ragazzi pian piano cercherò di far venire più gente qua su dragon ball perché comunque ieri ovviamente non è andato bene il video però se inizio pian piano la gente poi verrà come è successo con GTA tanti anni fa allora ragazzuoli come ho detto ieri volevo fare la serie e volevo fare la serie in pratica sulla saga super ragazzi chiaramente ci saranno i vari episodi più gli episodi i 7 episodi segreti che stanno dopo allora in pratica ci sono della prima saga la saga quella dell'idea eccetera eccetera c'è questa qui e quest'altra prima Goku si parte contro Bills da Super Saiyan God normale e poi qua si incazza di brutto e poi possiamo vedere cosa fa come diciamo nel cartone poi ragazzi ci sono altre saga ovviamente direi di partire subito con el dios della distruzione vai si parte vediamo un po' come hanno fatto la saga finalmente perché hanno ricostruito tutti i dialoghi chiaramente in spagnolo ma hanno ricostruito proprio la storia e voglio vedere il lavoro che hanno fatto ok mamma mia lo spagnolos guarda che fiero super saiai saiaijin giustamente cioè ragazzi il doppiaggio è stato fatto bene in spagnolo veramente a tempo tutto perfettamente vamos a pelear vamos a pelear vai devi partire allora qua Bills è tipo fortissimo io ho Goku Super Saiyan God quello normale porca miseria prendiamo di botte che è veramente colpe meteoritico questo è il colpo dei meteoriti classico non so perché gli hanno fatto la fiamma gialla invece dovrebbe essere rossa la fiamma questo Goku come nel cartone vediamo cosa fa KMA Super KMA mi sembra giusto oh zio batonna mia che ho scansato ora gliela carichiamo e prenditi questa l'ha presa attenzione l'ha presa mamma mamma io direi di prenderlo un po' ammazzate R3 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 continuazione del dialogo vai tanta ruba ragazzi tanta ruba ragazzi per favore lasciate un like per il supporto perché mi sta piacendo tantissimo sto gioco è veramente qualcosa di spettacolare vai si parte la refieres ragazzi non salto i filmati perché li dovete vedere giustamente io sono te gusta te gusta eh oddio si è incazzato si è incazzato attenzione si è arrabbiato si è arrabbiato triangolo X cerchio X no ho sbagliato X triangolo eh infatti lo sapevo oddio ma tutto fa un paso quanta velocità ha per caricarsi becca di questa niente ragazzi c'è tipo è tutto potente è un pre no te la devi prendere per forza questa te la devi prendere perché cosa addirittura c'è l'altro filmato c'è l'altro filmato si sta arrabbiando a Goku ragazzi comunque Bills è tutto tutto diciamo potenziato avete visto sopra la barretta la frustazione e vabbè qua sono tutti dei tutte e due però dettagli ma però Goku c'è fatto benissimo comunque oh madonna e no e te la prendi questa te la prendi che ti devo stoppare di botte attenzione li tolgo li tolgo poco raga però comunque è normale visto che qua e nella storia sono tutti i potenziali guardate c'è tutte le cose al massimo minchia come se le ancora un altro filmato un altro filmato attenzione vabbè ragazzi le scene sono illegali cioè guardate tutte le riprese fire si questo ma adesso può essere un Dios attenzione oh no no non me la fa fare ma quanto toglie quanto toglie raga raga toglie tanto no raga fa malissimo quanto cacchio leva cioè raga un colpo mi toglie metà vita no vabbè si scansa tutto raga scansa qualsiasi cosa oh ma fa male non posso mettere sti danni dai che cacchè guardate che non mi fa ovviamente non la può prendere manco per facciamo questo vediamo e ovviamente si para ti prendi e non me la prende va cito raga è impossibile fa malissimo ok ragazzi siamo ripartiti adesso cerco di fare il più male possibile comunque lui fa male così da quando eh ma guarda fa malissimo fa proprio male 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 cioè impossibile sa geratis cioè non era così think c3 mica facevano così male i personaggi mi hanno messo i danni con le mod impossibile ma vabbè raga non mi lascia a scampo è legale cioè guarda metà diceggio già tre vite impossibile guardate quanto leva vabbè vabbè ma è impossibile oh zio cammè furiosa cioè che cacchio è mi ha fatto male però attenzione mi sto facendo malissimo con la cammè furiosa attenzione vabbè l'abbiamo visto prima comunque adesso raga si è incazzato malissimo tipo arriva niente raga è possibile no vabbè è possibile ragazzi l'unica pack che ho trovato fino adesso di sto gioco è che i danni sono illegali cioè diciamo con le mod te la prendi in faccia questa con le mod raga le hanno messo di danno cioè un pugno mi toglie metà vita che cacchio e questo te lo prendi e questo te lo prendi male pure c'è un pugno metà vita un'energetica mi toglie tre vite che cacchio è è veramente illegale l'hanno fatto questo ma lo spammo di mosse perché sennò qua non ce la finiamo più mamma mia attenzione stavo a dipendere per forza dai madonna e te la sei presa vai filmato filmato questa l'abbiamo fatta prima oh ce l'ho fatta io attenzione madonna mia dai che te lo prendi anche questo dai che te la prendi eh ma vedi c'è lo scudo attivato c'è tutto attivato grazie che non gli faccio niente attenzione preparati a morire preparati a morire dice guarda quanto fa male no no guarda quanto toglie due vite guardate raga non mi lascia scampo vediamo di fare qualcosa dai lo stavo uccidendo ma adesso un colpo che mi da lui mi ammazza di brutto impossibile dovrei ammazzarlo dai ce l'ho fatta ce l'ho fatta mamma mia che fatica impossibile raga è impossibile ammazzare questo mamma mia c'è veramente è stata una una sudata raga ce l'ho fatta è stato impossibile perchè tipo gli hanno messo i danni ultra potenziati che vi ho fatto vedere che dire per questo video è tutto lasciate like e nel prossimo faremo la battaglia finale contro Beats vediamo che sarà ancora più forte lui sicuramente quindi mo non so come andrà a finire niente raga che dirvi per questo video è tutto vi dico di lasciare un like a questo video iscrivetevi al canale condividete questo video ai vostri amici mi raccomando e niente per questo video è tutto noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi grazie a tutti i nostri amici a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici grazie a tutti i nostri amici